Salve sono Lodino Zella, ho 64 anni e abito a Montegrotto da circa 30 anni. Attualmente sono in pensione. Ho deciso di candidarmi in qualità di consigliere comunale nella lista civica Nuova Montegrotto. Ho svolto la mia attività lavorativa presso il vicino comune di Abano Terme in qualità di tecnico responsabile della viabilità, del verde pubblico e dell'arredo urbano. Vorrei mettere a disposizione questa mia esperienza acquisita per questa città che vedo in difficoltà. La mia intenzione è dare priorità a un intervento immediato sul sottopasso ferroviario della stazione che occorre mettere in sicurezza. Un altro intervento che io ritengo prioritario è elaborare un progetto per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili e percorsi pedonali in genere. Perché come vedete dall'esempio che ha qui davanti abbiamo uno sgrottolamento della pavimentazione del marciapiede che ha un dente di 3 cm. Questa è un'insidia per i pedoni. Quindi è urgente intervenire. Per dare forza alle mie proposte il 5 giugno vai a votare e vota lista civica Nuova Montegrotto Lodino Zella.